E' chiaro che oggi viviamo una condizione che è paradossalmente peggiore rispetto al 26 luglio 2012 perché oggi, proprio ragionando sull'AIA, su quello che si dovrebbe fare, sta per uscire domani il nostro volantino, dove denunciamo il fatto che di AIA non sappiamo più assolutamente nulla. Cioè è tutto completamente fermo. Stamattina mi chiamavano dei dipendenti, non ci sono le provette per fare le urine. Le prove, gli esami. Le provette sì, per le urine. E non costano niente le prove? Perfetto, non abbiamo le siringhi, cioè viviamo questo tipo di condizioni. E' chiaro che a un certo punto se non hai la materia prima, che costa pochissimo, la vediamo difficile che cominciano a fare cappe di espirazione e quant'altro. Si sta accampando alla giornata, il paradosso è quello. Probabilmente avevi ragione tu quando dicevi prima, stiamo producendo, come dito, debito.